In modo particolare oggi vogliamo parlare del progetto Inclusivamente, un progetto che nasce come tante altre attività e proposte dall'Associazione Scuole Cattoliche di Novara che da circa 6-7 anni agisce direttamente nelle proprie scuole e anche sul territorio. L'Associazione in modo particolare sottolinea l'importanza dell'agire, del progettare in rete e sicuramente questa capacità di lavorare, di trovare verso i ragazzi e i bambini di oggi la migliore strumentalità eccetera è per noi un grande significativo lavoro insomma. È l'apporto che noi diamo ai nostri ragazzi e ai nostri bambini ma non solo, desidereremmo che l'Associazione delle Scuole Cattoliche di Novara diventasse poi un punto fermo anche per la città quindi con proposte culturali, con proposte di vario tipo. Abbiamo pensato a questo progetto proprio per la necessità di seguire nel migliore dei modi i bambini e i ragazzi che hanno problemi specifici di apprendimento cioè la dislessia, la disgrafia, la discalculia eccetera. Questi bambini diventano sempre più numerosi, il loro aumento è notevole in tutte le scuole quindi sempre di più c'è l'urgenza di occuparsene in modo efficace. Il progetto è stato organizzato in risposta al bando del Ministero per l'ampliamento dell'offerta formativa, bando che ha riguardato anche le scuole paritarie. Abbiamo avuto un finanziamento come rete che ci consente di implementare la nostra dotazione di strutture informatiche e quindi delle lavagne interattive e nel suo tempo di fare una formazione comune dalla materna alla scuola superiore per trattare l'isturbo della sua evoluzione nelle varie fasce di età. La formazione è fatta insieme, è fatta cura del centro COSPES che è il centro di psicologia delle scuole salesiane e che ci segue in questo percorso e nella formazione si prevede sia l'apprendimento da parte dei docenti di tutti gli strumenti necessari da ogni far fronte a questo disturbo, ma soprattutto l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e dei nuovi software che sono molto efficaci. Il tutto fatto in rete ci consente di veramente arricchire tutte le nostre scuole di queste competenze che sono assolutamente necessarie al giorno d'oggi, anche per i bambini dormodotati, perché l'utilizzo delle nuove tecnologie è veramente la frontiera che dobbiamo superare al più presto per essere in sintonia con i nostri alunni. Un progetto particolarmente importante è quello di Inclusivamente, perché come dice lo stesso nome, desidera mettere tutti insieme attraverso questa rete che è nata qualche anno fa delle scuole cattoliche, unire non solo un lavoro di ricerca continuo da parte dei dirigenti, ma in modo particolare unire un lavoro e unire le necessità delle scuole. Abbiamo voluto fare un lavoro comune proprio perché c'è necessità di questo e perché in questa ottica di ricerca i nostri ragazzi sentano una forza unica, un gruppo unico che vuole aiutarli e vuole dare loro una mano a crescere, nonostante le tante difficoltà di oggi.